Musica Qui oggi a Trieste per tutta la regione di Venecia Giulia per festeggiare il Vigitale che è un acceleratore di crescita veramente molto importante e che non è stato ancora utilizzato in maniera veramente forte e energetica in Italia quindi noi spingiamo perché il cloud diventi un'opportunità per tutte le piccole e medie aziende e anche le organizzazioni pubbliche per fare rapidamente e estremamente efficace quello che tante aziende più grandi hanno messo vicine d'anni a creare è un'opportunità fenomenale per la crescita del paese, sono punti di pil in più sono un grandissimo numero di impieghi aggiuntivi quindi contiamo tutti voi per capire cosa si può fare con il digitale e realizzarlo velocemente Questa mattina siamo in area Science Park per il momento di incontro sul cloud e il digitale e rappresenta cosa vogliamo fare verso le PMI, il futuro delle PMI e con gli amministratori delegati di Microsoft e di Webpack Ambientalia insieme a Sudia di Enno daremo un'ispirazione sul futuro delle piccole e medie imprese perché è importante nella nostra agenda digitale riuscire ad avere un futuro fatto di infrastrutture ma anche un futuro fatto di informazione, formazione, sviluppo è importante avere le infrastrutture ed è importante avere le persone che poi le sappiamo e non le sappiamo il nostro futuro dipende da come investiremo le nostre risorse e oggi siamo qui a discutere queste attività grazie a tutti grazie 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 grazie